E ora vi facciamo leggere la scheda di Alessia Messina la corteggiatrice mora del trono classico ed in particolare del tronista Amedeo Andreozzi anche se la settimana scorsa abbiamo visto che ha fatto un'uscita anche con Fabio Colloricchio, in particolare Alessia Messina a 21 anni compiuti viene da Paternò in provincia di Catania. Anche se per la verità non ci risulta che si conosca con Aldo Palmeri, è alta 1,74 cm e nella vita è studentessa. Per quello che abbiamo visto in trasmissione il tronista Amedeo Andreozzi ci sembra molto ma molto ben intenzionato nei suoi confronti, staremo a vedere il suo percorso a noi per il momento non ci rimane che lasciarvi queste belle foto di Alessia Messina che come potete vedere fra le altre cose ha una partecipazione alla trasmissione Veline.